Amiche Gypsy e amici Gitan, quest'oggi siamo qui per un nuovo progetto, un progetto sponsorizzato da TomTom. Quando me l'hanno chiesto era un po' titubante, sappiamo che Gypsy non è poi così tanto sportiva, amo camminare, cammino tantissimo, tutti lo sappiamo, questi 8 km al giorno che non mi toglie nessuno. Yoga sicuramente, sci sicuramente, ma diciamo che finisce bene o male lì, anche perché la mia coordinazione è alquanto discutibile. Quindi, insomma, si parte dal cuore, diamo un pochino di scienza a tutto quello che in realtà è emozione, che ci fa scrivere, che ci fa sognare, che ci fa pensare e perché no, che ci fa correre. Io intanto ci provo, vediamo se riesco ad arrivare tonica e allenata meglio di Belen alla mia isla bonita e poi insomma saddafa, saddafa, qua bisogna rimanere toniche e in forma. Per cui, in queste prossime puntate vedrete tutti i miei tentativi goffi, a volte invece quasi sulla buona strada, di iniziare a correre. Ho un fantastico personal trainer, Alessandro, che con un grande pazienza mi insegna i gesti, le movenze, la respirazione e tutto quello che riguarda appunto questo favoloso mondo del running. Per cui, Egyps in the Kitchen goes sporty. Venite con noi! Grazie a tutti i miei tentativi! 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 Grazie a tutti i miei tentativi!